Salve a tutti, sono Lorenzo Santoro, ho 22 anni e da quando ho 18 anni sono socio del BCC di Roma grazie a mio nonno Arnaldo Calzetta da cui ho ereditato le quote. Lo scorso luglio mi sono laureato all'Università Luis di Roma in Economics and Business e da settembre scorso studio all'Università Bocconi di Milano Economia e Scienze Sociali. Per il futuro spero di completare gli studi e magari di avere delle prime esperienze lavorative nel mondo della finanza. Sono Gioia Crucicchio, ho 23 anni. Dopo aver conseguito una laurea triennale in CG Animation con il massimo dei voti, ora lavoro in una società di Roma che si occupa di sviluppare prodotti commerciali videoludici. Essendo i videogiochi la mia passione sin da bambina, spero un giorno non troppo lontano di poter fondare una mia società che si incentri soprattutto sul settore videoludico ma anche cinematografico e di animazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Salve a tutti, sono Erika Schiano e sono laureata in psicologia dello sviluppo tipico e atipico. Essendo anche diplomata in violoncello, il mio sogno sarebbe quello di unire le mie due passioni e farne un lavoro, cioè musicoterapia per i bambini ospedalizzati. Ciao! Buonasera, BCC Roma. Sono Michele Morella e sono laureato in architettura all'Università di Roma 3. Nel mio futuro ho tanti progetti, letteralmente. Vorrei infatti proseguire il mio percorso di istruzione, conseguendo l'abilitazione per l'esercizio della professione di architetto e poi successivamente lavorare in questo ambito. Spero che passiate una buona serata e un saluto a tutti. Buonasera a tutti, mi chiamo Lucrezia Liberati, ho 23 anni, sono una pianista e ho concluso il percorso accademico con la laurea magistrale in pianoporte a febbraio del 2020 presso il Conservatorio Mascani di Livorno. I miei progetti per il futuro sono quelli di continuare a perfezionarmi in questa arte che in quanto tale richiede uno studio e una ricerca continui e il prossimo evento, concerto che mi vedrà protagonista sarà proprio a Roma il 24 giugno al Teatro Palladum. Sono Marco Lucibello, mi sono diplomata all'Iceo Scientifico Malpighi e attualmente frequento il primo anno del corso di laurea in fisica a Roma 3 e mi piacerebbe diventare un fisico nucleare.